buongiorno buongiorno a tutti colleghi oggi in questo breve tutorial vi farò vedere come assegnare dei compiti su google classroom dunque volevo subito anticipare che quando siete sullo stream vedete qua stream lavoro del corso e vedo che molti colleghi inseriscono materiale link a video eccetera in realtà non state assegnando un compito ma state come se foste in class e state e faceste la vostra lezione ecco quindi ragazzi studiate quello guardate quello eccetera ok però nulla di più ora invece vi farò vedere come andare proprio a segnare un compito e qui per compito sto intendendo un elaborato di videoscrittura perché poi per altri compiti ad esempio pensiamo ai compiti di musica o di ginnastica o le tavole di tecnologia vedremo che dovrà usare altri strumenti multimediali comunque torniamo torniamo a noi allora io sono praticamente uno stream devo assegnare un compito ok io in questa classe o due ragazzi due alunni che si chiamano paperino e paperina ok quindi vi farò vedere anche cosa vede l'utente paperina allora io crea un compito ok il nuovo compito il compito che voglio dare è peso specifico peso specifico ho anche chiamato densità le colleghe di scienze non useranno il termine peso specifico ma il termine densità ok peso spec scusate ho scritto sbagliato vedo poco peso specifico ok peso specifico allora devo aggiungere praticamente l'elaborato come se fosse la fotocopia quello che mi devono compilare ok quindi vado a scegliere da google drive perché ho già preparato un compito un template in google google documenti ok peso specifico eccolo qua lo vado a scegliere questo è il compito che loro devono compilare metterò le istruzioni dunque io qui fate attenzione ho diverse opzioni se voglio fare un compito collaborativo in cui tutti possono scrivere potrò scegliere questo modificare il file ma in questo caso voglio che ognuno faccia il suo per cui sceglie scelgo crea una copia per ogni studente ok do una scadenza ad esempio me lo devono fare entro praticamente domani ok e assegno il compito ok quindi lo assegno pensate adesso sono in due ma automaticamente in questo modo ogni ragazzo ogni alunno sono in 25 riceverà praticamente il compito nella sua nel suo google classroom quindi ho questo nuovo compito che ho assegnato vedete ne ho consegna scusate ne ho assegnati a ragazzi 10 nessuno me l'ha ancora consegnato adesso passo all'account paperina quindi è come se io fossi qui è quello che vede lo come si dice lo studente lo studente va a riceverla comunque la notifica di nuovo compito su classroom scusate sulla mail vado su io sono lo studente in questo caso è quindi vado sui lavori del corso ok vedete che tu nuovo compito che scade il 15 marzo vado ad aprirlo ok quindi qui vedo faccio semplicemente clic sul file questo è il compito che mi è stato assegnato ok io sono paperina vedete sono molto dirigente il scusate il peso specifico e il peso per unità di volume adesso poi vabbè mettiamo solo questo poi posso fare proprio ad esempio scrivere chilogrammi a decimetro cubo insomma giusto per far vedere che so cos'è oppure metri a scusate insomma quello che devo scrivere una volta che voglio consegnarlo vado su consegna e il ragazzo ha fatto il suo dovere ok quindi io ho visto che ho consegnato il compito bene adesso torniamo praticamente all'account docente e qua vedete io torno faccio vedere cosa vede cosa vede il docente vado a vedere il compito che ho assegnato vedete scusate un attimo ecco qua vedete assegnato 1 consegnato 1 ok io in pratica vedo che un docente mi ha gli ho praticamente uno assegnato che sarebbe paperina e paperina e sono in due uno assegnato uno assegnato che non ha ancora fatto il compito e uno consegnato quando saranno tutti consegnati qui consegnati diventerà due posso andare ad aprire il mio senza che mi mandino il lavoro mia mail eccetera ti dico bravissima scrivo magari in rosso ok brava brava ok magari posso scrivere qua 10 oppure per fare perché qui la segna in centi quindi vuol dire 100 centesimi ok 100 centesimi così imparano anche un pochino di matematica ecco vedete qua posso assegnare il voto centesimi brava posso scrivere dei commenti privati brava ecco qua io adesso una volta che ho fatto questo restituisco e il ragazzino l'alunna paperina troverà automaticamente il compito corretto ok restituisci corretto e pensate alla comodità io lavoro tutto da un ambiente unico non devo scaricare mail non devo fare salvare i file eccetera lavoro tutto qua la cosa molto interessante che in qualsiasi momento voi vogliate andare a vedere dove sono i compiti eccetera hanno fatto praticamente in tempo in tempo zero ok quindi posso in ogni caso risalire la cartella dei compiti questo è praticamente lavori del corso vado in lavori del corso vedete vado sul compito peso specifico vedo qua praticamente il percorso delle cartelle quindi cartella drive del corso ok scusate adesso voglio farvelo vedere non desideramente da drive comunque se volete andate da drive vedete io oro in drive nel mio drive la classe di prova ok vedo praticamente tutti i vari compiti ogni compito assegnato praticamente viene creata una cartella con quel nome quindi troverò dentro la cartella tutti i file con i lavori dei ragazzini in modo automatico andiamo a vedere il compito sul peso specifico ecco qua i miei compiti ok quindi insomma è un modo è un modo molto molto veloce di gestire gestire i compiti senza passare da strumenti molto più lavoriosi e ricevo via mail e mando via mail ognuno lavora con un suo programma di scrittura insomma in questo modo tutto gestito in modo molto elegante e soprattutto efficace sia per noi che per loro ok spero che il tutorial vi sia servito buona giornata a tutti